Pronto per la nuova stagione? Sì, siamo qua per iniziare questa nuova stagione. Per me è molto importante, anche per tutta la mia squadra, per cercare il riscatto della stagione passata e speriamo che sia una stagione buona. Hai detto già che il riscatto in 2015 non ti soddisfa. No, a me non mi ha soddisfatto assolutamente. Sicuramente erano ben altre le aspettative. Anche tutta la squadra, a mio parere, è andata al di sotto di quelle che erano le aspettative. Quest'anno cercheremo di partire con un piglio diverso. Forse anche i problemi fisici nella prima parte, se arriva dalla Tirreno proprio giusto giusto, ti hanno limitato in quelle corse settimana. Trentino ti hanno magari un po' limitato anche. Sì, forse ho sbagliato qualcosina l'inverno scorso e poi ci ho avuto problemi fisici già in Oman e poi comunque anche al Trentino ho raggiunto un buon piazzamento e al giro non mi sentivo l'Edoardo Zardini del 2014. Comunque abbiamo approfondito un attimo la situazione e effettivamente qualche problema fisico ce l'avevo. Dove vuoi rivedere l'Edoardo Zardini vero e proprio? Mi piacerebbe rivederlo già dall'inizio perché tempo non ce n'è, bisogna fare da subito bene. Poi comunque anche in base agli inviti che riceveremo in qualsiasi corsa sarà l'occasione per raggiungere buoni risultati. Poi sicuramente a maggio, aprile-maggio, insomma, sono i periodi più favorevoli. Ti avevi vinto nel 2014, ti è mancata forse la vittoria quest'anno? Quest'anno al di là della vittoria mi sono mancate proprio le sensazioni positive solo a fine stagione, fine settembre, proprio inizio ottobre, l'ultime gare e mi sono ritrovato veramente e anzi mi è dispiaciuto finire la stagione perché lì avrei continuato e avrei ottenuto anche altri buoni risultati. Come ho detto prima, il mio fisico aveva qualcosa e non riuscivo a esprimermi al meglio. Forse anche questo finale nuovo di stagione nel 2016 correte tutto il mese di settembre, praticamente può essere per mettere buone gambe e fare bene nel finale proprio. Sì, sì, beh, ma io nel finale di stagione vado sempre bene a settembre è che mi piacerebbe insomma aver già messo qualcosa in cascina, qualche risultato, vittorie, sperando e comunque sì, ci ammetteremo tutta. Teo, ho avuto la fortuna di fare il percorso preolimpico. Che percorso è? Eh sì, ho avuto la fortuna di andare a Rio con la nazionale. È un percorso veramente impegnativo. C'è tutto, c'è il pavè, c'è il vento e poi c'è questa salita alla fine di quasi mezz'ora è molto impegnativa. Secondo me arriveranno uno alla volta. Te l'hai già provata, può essere un motivo in più per sperare di arrivarci? Beh, io così lontano non guardo. Sicuramente andare all'Olimpiade sarebbe veramente un sogno. Per meritarsi una gara così bisogna andare fortissimo prima in grandi corsi, in grandi obiettivi e vincere qualcosa di importante sicuramente. Ti hai detto che non vuoi vedere ad agosto io ti pongo ancora più in là la domanda. Cosa vorresti dirmi a dicembre dell'anno prossimo sul tuo 2016? Beh, magari aver fatto quel definitivo salto di qualità e aver raggiunto altri obiettivi, altre vittorie e comunque essere migliorato come corridore.